Oggi è una bellissima giornata di sole, guardate che bel sole è lì, fa l'uso. Allora, innanzitutto caffettino, intanto mi avete chiesto se bevo il caffè, non sempre, ma quando mi va lo bevo e mi piace prepararlo in questo modo, perché ovviamente io devo fare tutte le cose alla Carlita, Carlita Style. Caffettino lungo, molto molto buono, faccio un caffettino un po' alternativo, vediamo se vi piace. Caffè, due cucchiaini, io uso questo qua solubile, se utilizzate quello della moca ovviamente mettete una tazzina di caffè, cacao amaro, un cucchiaino, una puntina di cannella, che dà un aroma buonissimo, ne basta poca, è così, zucchero di canna, oppure io ci metto un po' di tubia, a zero calorie, quindi super light. Mi piace anche amaro il caffè, vi dico la verità, però ne metto tipo, ma ne metto poca, eh, di questa qua, perché tipo, neanche tipo mezzo cucchiaino, perché è molto molto dolcificante. Poi vi regolate voi, potete mettere il miele e lo zucchero di canna, quello che volete. E adesso ci metto l'acqua sopra. Per finire ci metto un goccino di questo qua, che adoro, agitare sempre prima dell'uso. Goccino, goccino, ecco così, e poi lo metto nel microonde. Ecco qua. E zac, pronto il mio caffettino aromatizzato. E poi prenderò pochi limoncini per portarli a casa. E' una mia mamma bella. Guardate che bella, che amore. E che profumo del faro. E' un po' di essere schede. Tutto amore, è un po' di amore. Questa c'è da di paghettino. Ah, ci sono anche le aranze, c'è un po' di amore. Tadà, ho fatto il furto. Sono andata a Frutti Vindola. Che ci amano. Amore mio. Che ci amano. Amore di mamma. Questa macchinetta ci ha fregato, Nelzi. L'abbiamo comprato. 1 euro e 2 euro buttati. Ma poi mi fattoria. A me mi ha dato quello di 1 euro e lei 2 euro. Ma con me? 500 euro vincerò. Vincerò la lotteria. Brava. E io? 1 euro. Guardate come è scendata. Io 1 euro. Vediamo. Grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. La prima volta che facciamo, non si fa? E la prima volta in vita mia. Allora, Banco. Parta qui, ha provato a C. No, assieme. Dura di più, no? No, assieme. No, assieme, no? Tu mi porti riella. Fai il tuo tuo e io il mio. Allora. Se trovi nei tuoi numeri, trovi una più parte di più. Io devo fare di più. Il banco è uscito 6 metto, quindi adesso devo fare un secco sempre e mezzo. Aiuto, spero di farcela. Venti, ho vinto, ho vinto la lotteria. Hai vinto 1 euro? Ah! Hai vinto, wow. Veramente, guarda. Con segreto proprio. Guarda quanto ho fatto. Guarda, ho vinto. Ma che hai vinto? E guarda, 3, 4, 5 e 6. E che? Ho vinto. E che hai vinto? E ho fatto 6 e lui 6 e mezzo, ho vinto. Uo, hai vinto? Hai vinto veramente. No, 5 e mezzo hai fatto. 3, 4, 5 e 6. E chi sta fatti 7? No, hai perso. Hai perso. Tu hai fatto 6 e lui 7. Quanto vincevi? Vediamo quanto vincevi. Un milione di euro. Quanto vincevo? 2 euro. 2 euro? 1, ma che bidone. Vediamo il mio. Io devo vedere. Devo prendere uno di questi 4 numeri qua dentro. Hai dato 30, 38, 38. E poi c'è anche un bonus se prendo 39. Eh, sì, che sicuro ha vinciuto. Allora, 23. Oh scema. Oh scema. Vincevo 5 euro. Ma mamma che è rinchissima proprio. Aspetta. Oddio, è scelto. È scelto. È scelto. È scelto davvero. 23, 33. Hai vinto. E quanto hai vinto? 2 euro. 2 euro fa poco. Ma i tieni. È certo. Hai vinto 2 euro. Ringrazio a Dio. Non ho mai vinto niente. Mi dammi. Ma 2. Aspetta. No, 2 euro. No, 2 euro. Vedi bene. C'è 1, 0. Ma 2. Speccata. Vado. Hai vinto 2 euro. Vedi quattro numero. Forse esce. 14. Non poteva escire questo. 10 euro. È 2 euro. È la vostra più bassa. Nancy, come ti senti ad aver vinto la lotteria? Madonna, sono troppo felice. Wow. Cambierà la mia vita con 2 euro. Con 2 euro sei diventata miliardaria. Adesso che facciamo? Ritentiamo con i 2 euro o ce li bidiamo? No. Tentiamo. Tentiamo di nuovo? Eh sì. Ma proprio se proprio vuoi vincere proprio oggi. Mamma mia, gioco proprio ad azzardo. Questo sempre. Questo è il mio fortunato. Vai. Ti ha vinto di nuovo? Vetti, vediamo quant'è. Aspetta, stronta. Quanto hai vinto? Stato, non 2 euro. 2 euro una tavola. Mano mia, ma come è possibile? Viglie in giro. Mi hanno dato biglietti. Adesso mi hanno dato biglietti. non ci passiamo, è una buona visione, potevi vincere il po' 100 euro se ce ne andavamo ci siamo affidati i gieri, è stata la condanna questo biglietto, la condanna è morta per solarci da questa vincita misera ci siamo comprati 8 kg di sushi indovinate quante persone devono mangiare? 2 persone, 8 kg di sushi c'è un vassoione tutto sushi, un altro vassoino tutto sushi in tutto li ho contati sono ben 56 pezzi, pochi dai poi dato che non ci sazieremo abbiamo comprato anche un po' di salmone affumicato abbiamo comprato anche un po' di cappaccio di salmone, abbiamo comprato anche un bel pezzo di salmone per fare la tartare, un po' di pesce spada affumicato non avevano ragione che dicono che noi mangiamo troppo vabbè sono pure questi qua che sono troppo buoni di soia, questi però non li mangiamo sono i noodles che avevamo comprato ho preso un po' di zenzero, devo fare una ricettina detox, troppo troppo bella e poi il mio cavolo di nuovo devo fare questo qua l'insalatina la rucoletta e poi dopo per digerire tutto una bella di salatopopasto ma però esagerato tutta sta roba 100 euro, ho speso 100 euro incredibile ragazze cioè non conviene proprio ma conviene proprio a starsene a casa e fare un bello spaghetti la prossima volta il sushi all you can eat e poi ho comprato però pure i bicchieri questi qua perché praticamente quelli che avevo si sono rotti tutti sono andata ad aprire qua il il coso dell'armada nel mobile ho trovato guardate se mi devo buccire solo due bicchieri ne avevo tipo 8, solo due perché ogni giorno se ne lo beva uno sto facendo la salsina per il sushi la nostra mitica salsina piccolo aggiornamento al video che già vi ho fatto sul secondo canale sto mettendo anche l'insalata proprio la lattuga perché ho notato che assieme alla rucola se metto anche un po' di insalata viene ancora più buona un sapore ancora più delicato meno piccantina si, provate anche questa variante ragazze viene buonissima comunque questa salsina è top mamma mia ogni volta che facciamo il sushi noi la facciamo sempre è troppo buona comunque vi lascio il link nei box informazione per andare a vedere il video uuuuuh che bella tavolata abbiamo preparato l'abbiamo messo che salatina le nostre salsine e il sushi che buon po' ce la faremo a finire tutto? siiii avremo anche fame anche il posto per il dolce sicuro stiamo morendooo stiamo vedendo la replica dice forse è perfetta a me ci piace troppo e ci rivediamo tutte le puntate è vera l'abbiamo visto io sto morendo ti giuro mi sento di scoppiare come è grande l'abbiamo oh oh ah ma mi ho già mangiato di 10 in questo mi hanno mai bella ma li voce ma proprio mangiare mhm è quasi tutto in piedi quasi tutto in piedi quasi tutto in piedi non ce la possiamo fare anche se stiamo scoppiando non lasceremo nulla non pensavo di dirlo mai ma il momento più bello della giornata quando è notte ho pulito tutta la cucina e la vedo splendere pulita casalinga disperata adesso tisanina rilassante e buonanotte penso che farò 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 la mia ossessione del momento ovvero questa qua rilassante buonanotte no vabbè che affine che ho fatto casalinga disperata giornata finita mi sono messa anche il mio bel pigiamino è stata una giornata un san valentino un po alternativo e non so voi cosa avete fatto però io sono stata contenta di averlo passato in compagnia di una persona che amo ovvero mia sorella sono contentissima e adesso non fate caso non mi aspetto perché sono veramente stravolta e sto al computer è tardi sono tipo le due di notte so computer a montare il video appunto che caricherò domani e sto qua c'ho un macello davanti a me c'ho tutte le mie agende bellissime perché mi segno tutto sulle agende questa qua che si apre qualche volta ve le faccio vedere poi c'è questa qua di pari che c'ho scritti soprattutto i miei elenchi di video che devo fare tutte le mie cose infatti domani mi devo registrare delle nuove ricettine che voglio fare per i capelli per varie cose comunque belline belline sono felicissima e niente io vi ringrazio per aver guardato questo video per avermi fatto compagnia e vi mando tanti tanti baci fatemi sapere nei commenti come avete passato questa giornata di san valentino ieri poi abbiamo visto invece la finale di sanremo infatti ho commentato un pochino anche su su instagram che non mi abbia fatto piacere se avesse vinto spero di aver truccato tutti i congiuntivi analisa scarrone perché piaceva tanto la sua canzone però mi piaceva tanto anche quella di noemi e non mi dispiaceva se vincevano anche o clementino oro quanto allora insofragola questi qua giovani insomma valerio scano erano tutti bravi però hanno vinto gli stadio che e la canzone è bella devo dire la verità però io ti favo per uno di questi qua giovani poi analisa è tanto dolce una ragazza buo brava c'è un grande talento secondo me quindi veramente me l'avrebbe fatto piacere però vabbè io mi mando un bacio grande 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 buonanotte ci vediamo domani con un nuovo video a Grazie a tutti.